E' ufficiale giovedì 10 maggio l'incontro con il governatore della Calabria Mario Riverio e la città di Palmi, avente per oggetto la spinosa questione sanitaria della piana di Gioia Tauro, ossia la costruzione del nuovo ospedale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Ranuccio che ha reso noto l'iniziativa pubblica nel corso della quale si farà il punto sulla situazione e sul litere della costruzione del nuovo ospedale. Il primo cittadino, in attesa dell'incontro con Oliverio e con il responsabile unico del procedimento, Domenico Pallaria, ha convocato per il 4 maggio la Commissione Consiliare Speciale Sanità, con la quale si farà il punto in attesa dell'iniziativa pubblica del 10 maggio. L'incontro arriva a circa un mese di distanza dall'ultimo consiglio comunale che si è tenuto il 12 aprile, nel corso del quale il tema nuovo ospedale incendiò il dibattito tra maggioranza e opposizione. In precedenza c'era stata la comunicazione del 9 aprile a firma dell'ingegnere Domenico Pallaria che comunicava che la data fissata per la consegna del nuovo progetto definitivo è fissata per il prossimo 22 agosto, uno slittamento rispetto al cronoprogramma che circa un anno fa era stato reso noto per l'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo nosocomio, ma anche la prima reale informazione circa i tempi da seguire per la realizzazione dell'itere che attende da circa 10 anni di essere portato a compimento. A sbloccare questa impasse, con la comunicazione scritta da parte del RUP, erano state le risultanze positive delle indagini geognostiche eseguite nel mese di gennaio e i cui risultati sono stati resi noti ad aprile nella stessa lettera. Il nuovo ospedale della Piana, che sorgerà a palmi nei terreni adiacenti all'Istituto Agrario, è stato finanziato con l'accordo di programma Ministero-Regione del 7 dicembre 2007 per un investimento totale di oltre 150 milioni di euro. Il nosocomio avrà una dotazione di 314 posti letto, oltre a 38 posti tecnici, per un totale di 352 ed un parcheggio da mille posti auto. Nell'aprile del 2015 era arrivata la sottoscrizione del contratto di concessione tra Regione Calabria, ASP e la società Tecnix, poi oggetto di provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Catania, revocato dopo sei mesi. Il 20 ottobre del 2016 è stato sottoscritto il protocollo di legalità tra Regione Calabria, ASP e concessionario e Prefettura.